Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, il car sharing di Roma Capitale gestito da Roma Servizi per la mobilità è ora attivo anche nel decimo municipio, sono quattro gli stalli disponibili, due a Ostia e due ad Acilia, raggiungibili con tutte le 200 vetture del servizio, due le modalità di utilizzo, l'auto si può prendere in un punto riservato car sharing e restituire in un altro oppure si inizia e conclude il noleggio dallo stesso parcheggio, per maggiori informazioni si può consultare la sezione car sharing del sito romamobilita.it